salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale oggi ho portato per voi dei filmati davvero interessanti prima di cominciare però ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza installata in questa piccola strada il video mostra quest'uomo passeggiare per la strada finché ad un certo punto l'uomo scompare come se fosse un fantasma il video seguente è stato ripreso dalla telecamera del macchinista di questo treno il filmato mostra i binari che il treno sta percorrendo durante la registrazione viene notata questa sagoma bianca che attraversa velocemente i binari il tutto ripreso in pieno giorno il video seguente è stato ripreso in una piazza dove ci sono alcuni piccoli centri commerciali l'uomo che sta riprendendo sente la voce di una bambina piangere e urlare sentendo la voce della piccola si inoltre in questi piccoli locali una volta dentro l'uomo tenta di capire da dove provengono le urla della piccola ma controllando tutti i vari scompartimenti non trova nulla di strano buona notte già si cerro hai algun dino aquí buona notte una telecamera di sicurezza installata nella stanza di questo bambino capta un evento paranormale davvero impressionante questo è il filmato un genere 관egli da piac Rio le urla è benigno Il video seguente mostra questa venditrice di case mentre realizza questo filmato e spiega che la casa che sta per vendere risale al 1962. La donna continua dicendo che ultimamente in questa casa si sarebbero verificati degli strani fenomeni e si aggirerebbero delle strane presenze. Proprio durante la sua spiegazione incominciano ad accadere delle cose davvero impressionanti. Questo è ciò che è stato filmato. Grazie a tutti. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Durante una riunione tra amici una delle ragazze del gruppo incomincia a comportarsi in un modo davvero strano. La giovane comincia a ridere senza fermarsi. Dopo qualche minuto sembra che incomincia a piangere. Cosa ancora più strana, sembra che la sua voce cambi tonalità assomigliando più alla voce di un uomo che di una donna. Mostrando a tutti gli effetti i sintomi di una possessione demoniaca. Il video è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. di un uomo che si è stato filmato. Di un uomo che si è stato filmato. filmato davvero terrificante non c'è che dire anche se ho qualche dubbio che sia autentico credo più che altro che sia un cortometraggio di un qualche film comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ragazzi il video finisce qui io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao